Ben ritrovati con Decoder, questa sera vogliamo condividere con voi la storia di Felice Perani, casnighese che lo scorso anno all'età di 57 anni ha combattuto contro il Covid-19, malattia per la quale ha trascorso circa tre mesi in ospedale. Bene 77 sono i giorni in cui è stato in rianimazione. Il suo percorso di guarigione lo ha portato anche in Germania e Felice Perani afferma che la Germania è la sua seconda madre in quanto gli ha ridato la vita, quindi sentiremo questa importante testimonianza e poi a seguire un altro racconto ben diverso, quello di una ragazza dell'Alta Valle Seriana che da circa due anni vive e lavora in Germania. a Francoforte. Ma iniziamo dalla storia di Felice Perani. Praticamente esattamente il 14 di marzo del 2020 ho avuto una forte febbre, intorno a 40, e sono stato portato d'urgenza al Papa Giovanni e sono entrato subito in coma. e non essendoci posto mi hanno spostato in terapia intensiva pediatrica, dopodiché sono stato trasferito all'Ipsia in Germania, alla clinica universitaria di Lipsia. In stato comatoso e attraverso una barella di biocontenimento sono stato trasferito appunto alla clinica universitaria di Lipsia. Devo dire che questo tipo di scelta è stata una scelta per me fondamentale, perché essendo un momento drammatico per Bergamo, non riuscivano a seguire tutti i pazienti, anzi dovevano fare delle scelte anche di chi doveva far vivere e di chi non riuscivano a seguire in maniera corretta, consona, e dovevano anche valutare l'aspetto di poter sopportare il viaggio, perché essendo un viaggio in aero con aria pressurizzata, non tutti potevano sopportare questo viaggio e arrivare vivi in Germania. Quindi la scelta era tra quelli più gravi, ma anche quelli che potevano in qualche maniera sopportare il viaggio ed arrivare in Germania con la possibilità di essere curati. Ecco, le mie condizioni erano gravissime, tant'è che ero uno degli otto pazienti spostati che secondo le previsioni non doveva arrivare a sera per la gravità. A me, quando hanno scattato alcune fotografie, quando sono arrivato all'aeroporto di Lipsia, mi hanno detto che avevo sei cateteri, ero intubato e praticamente nudo completamente, perché i vestiti erano stati gettati perché potevano portare virus o batteri letali e quindi sono arrivato in queste condizioni funzionando esclusivamente con le macchine. Diciamo che io ho avuto tre fortune in questa situazione, cioè la prima è stata che per qualche motivo c'è stato, come si può dire, l'aiuto da parte di una mia collega che stavo concordando con lei il fatto che non sarei andato a scuola all'indomani perché non mi sentivo bene e in questo momento sono riuscito ad avere l'attenzione da parte sua e poi che mi ha detto prova col saturimetro a vedere l'ossigenazione e aveva un'ossigenazione che era pari al 67%, quindi molto bassa. Di conseguenza quando io ho comunicato il livello di... mi ha detto assolutamente che dovevo chiamare un'ambulanza, allora ho sentito il mio es medico perché è ormai pensionato, il quale mi ha consigliato di chiamare il 112. Purtroppo il 112 sono rimasto più di un'ora al telefono e non riuscivo a mettermi in contatto. Nel frattempo la collega si stava interessando e continuava a chiamarmi, la trovavo occupato, direttamente lei ha chiamato il 118 e nel giro di dieci minuti mi è arrivata l'ambulanza. Quindi questa è stata la prima fortuna che sono riuscito ad avere l'ambulanza nel giro di dieci minuti. Quando è arrivata l'ambulanza hanno fatto praticamente tutti le varie procedure di rianimazione e mi ricordo che mi hanno collegato subito all'ossigeno e d'urgenza hanno deciso di trasferire il mio papà Giovanni che è la seconda fortuna che ho avuto perché non c'era posto negli altri ospedali e si era liberato, anche se fino a pochi minuti prima non accettavano più nessuno, si era liberato un posto al papà Giovanni, quindi mi hanno trasferito immediatamente al papà Giovanni. E appunto la terza fortuna è stato il fatto che non essendoci posto in terapia intensiva, in rianimazione, mi hanno portato provvisoriamente in terapia intensiva pediatrica e da lì i medici mi hanno rintracciato perché nella concitazione i sanitari non avevano segnato sulla mia cartella il numero di telefono, hanno rintracciato la mia collega e a un certo punto gli hanno detto se vuole vivere per anni scusi dobbiamo trasferirlo in Germania lei tranquillamente ha detto io non sono nessuno, ma i medici hanno detto questa decisione la prendiamo noi indipendentemente dal fatto che avvisi i parenti e comunichi che noi questa notte lo trasferiamo in Germania va beh quindi ecco io qui devo dire che sono stato circa 20 giorni tra la vita e la morte e dopodiché scusi ho superato questa crisi e piano piano mi hanno fatto una serie di cure che magari successivamente elencherò devo sottolineare la grande solidarietà della Germania che mi ha ridato la vita e io considero in questo caso la Germania diciamo la mamma putativa perché la mamma naturale è ancora viva 85 anni e io pur convivendo con lei non ha preso niente per fortuna sono riuscito a preservare il suo stato di salute e niente quindi devo ringraziare la Germania perché è l'unico stato che ha dato la disponibilità e so che sono stati trasferiti 42 persone in Germania dalla Lombardia in Lombardia ne hanno spostati 119 e l'unico stato che ha dato la disponibilità in Europa è stata la Germania non so con esattezza se mi ha trasferito direttamente l'aeronautica militare italiana oppure come era da prassi da quello che mi hanno detto che addirittura le forze militari tedesche venivano in Italia a prendere i pazienti a loro spese e a loro spese erano erano presi in cura negli ospedali e l'unico l'unico a carico dell'Unione Europea gestito dalla REU Lombardia era il viaggio di ritorno e praticamente è successo così allora io poi in Germania sono rimasto circa 70 giorni in rianimazione perché debbo dire che il virus è praticamente un virus talmente sudro e talmente aggressivo che colpisce tutti gli organi e quindi io ho avuto modo di poter constatare direttamente sulla mia pelle che oltre a colpire gli organi libera altri batteri altri virus che possono essere letali in questo caso presso la clinica universitaria di Lipsia hanno preso tutte le cure del caso perché hanno individuato due batteri letali che se anche guarivo dal coronavirus potevano essere micidiali per la mia salute esattamente uno a forza di fare delle TAC l'hanno individuato sotto un dente e quindi nella clinica universitaria di Lipsia c'è anche la sezione odontoiatria mi hanno trasferito in odontoiatria e mi hanno operato in bocca e mi hanno tolto questo dente l'altro era molto più pericoloso del coronavirus a dire dei medici e mi hanno praticamente mi hanno iniettato un antibiotico però per arrivare all'individuazione dell'antibiotico inizialmente volevano mettermi un tubo in bocca in gola e però era era molto pericoloso io avevo già sei cateteri ero intubato con l'ossigeno e tutto ed era molto pericoloso questo tipo di operazione che io in qualche maniera sono riuscito quando ero in sentore ad evitare allora loro attraverso l'analisi del sangue che mi veniva prelevato sistematicamente due volte al giorno andavano in laboratorio veniva veniva bombardato in laboratorio da degli antibiotici fino a quando dopo 5-6 giorni hanno trovato l'antibiotico che poteva in qualche maniera debellare questo virus e mi hanno per 12 giorni 24 ore al giorno curato con questo antibiotico inizialmente il primo risveglio che ho avuto è stato molto devastante perché come ben sapete gli infermieri i medici hanno gli occhiali la mascherina sono praticamente vestiti in sicurezza come si suol dire con i guanti con il camice con la cuffia sulla testa e per me erano quasi tutti identici non riuscivi a distinguere una persona dall'altra in più mi ero reso conto che non parlavano neanche l'italiano ma parlavano una lingua inizialmente a me sconosciuta perché non riuscivo ancora a comprendere e avevo avuto la sensazione di essere rapito tant'è che io ho ancora delle reminiscenze dei sogni molto degli incubi che volevo liberarmi infatti anche quando stavo per liberarmi ho sbattuto il dente contro la barriera del letto ho rotto il dente poi che me l'hanno sistemato appunto sempre nella clinica odontoiatrica e niente ho avuto una serie di incubi perché avevo questa impressione non avendo mai avuto niente non ho mai avuto praticamente l'unica l'unica pastiglia che prendevo era per la pressione ma non ho fatto un giorno di malattia in tutta la mia carriera scolastica e non sapevo neanche dire la verità come era fatto un ospedale quindi non ho trovato tra virgolette delle differenze perché non avevo un confronto per poter paragonare il tipo di cure di servizio di ospedale eccetera eccetera quindi da qui emerge una cosa molto importante e la cosa importante che emerge è che uno che fa una vita sana che mangia in un certo modo che fa sport riesce è come che faccia un investimento sulla sua vita è come mettere in banca delle risorse sperando che quando quando ha bisogno di poter avere bisogno hai questo rendimento hai la possibilità di utilizzarlo infatti da quello che mi hanno poi comunicato i medici in sostanza io avevo un cuore molto forte che ha resistito a a questo tipo di di virus e soprattutto perché era molto allenato facendo sport facendo attività in mountain bike e quindi questo mi ha permesso di poter resistere alle sofferenze e soprattutto a contrastare questo forte virus e questa forte malattia e quindi questo è un messaggio che facendo una vita di un certo tipo non ho fatto mai uso di non ho mai bevuto non ho alcolici non ho mai fatto uso appunto di sigarette non ho mai fumato eccetera eccetera questo sicuramente è un valore aggiunto che in caso di bisogno per la tua salute può essere un discriminante inizialmente io avevo assegnato essendo in coma un avvocato perché un avvocato tedesco perché naturalmente per loro è normale assegnare un avvocato a una persona in coma per di più di uno stato estero che firmava tutti i documenti relativi alle cure agli interventi che mi venivano fatti che mi venivano somministrati piuttosto che e il tribunale di Lipsia quando sono rientrato esattamente a fine giugno mi ha scritto una lettera dicendo se ero contento delle cure ricevute e eventualmente se avevo qualcosa da segnalare di inviare un reclamo con un link che mi avevano inserito nella lettera quindi c'è un'organizzazione che secondo me è fortemente fortemente gestita in maniera come si può dire particolarmente organizzata particolarmente precisa io mi ricordo che tutti i giorni un medico chiamava una mia cugina in Italia e riferiva al mio stato di salute e quindi c'è un'organizzazione che secondo me da quello che mi hanno detto alcune persone in Italia c'è una differenza enorme io in questa in questa vicenda devo ringraziare tre persone perché in particolare mi sono state vicine una mia collega che mi ha seguito mi chiamava aiutava si collegava in Skype con mia mamma e faceva in modo di assieme a mia mamma appunto si collegava e mi permetteva di interloquire con lei poi c'era una mia cugina che teneva i contatti quotidianamente con la clinica universitaria di Lipsia e l'altra cugina che dava una mano a mia mamma per i farmaci perché mia mamma ha 85 anni ed è invalida era una delle mie preoccupazioni il fatto che lì non poterla seguire perché io ero in Germania ero allettato ecco non so cosa potrei aggiungere ci sono tantissime cose che potrei aggiungere è stata un'esperienza forte perché come ripeto devo la vita alla Germania e mi hanno trattato come un figlio come un fratello gli infermieri stessi mi compravano a volte attraverso naturalmente tutte le procedure perché loro sono molto rigidi pur passando dalla cucina centrale però facevano in modo di farmi avere del cibo a me consono mi compravano anche la pizza italiana e facevano in modo di farmi mangiare non certo certi cibi a me più confacenti poi mi ricordo che quando dovevo spostarmi dalla clinica universitaria di Lipsia alle cliniche di arribilitazione che poi sono rientrato immediatamente hanno addirittura acquistato i vestiti le scarpe perché io praticamente in quel momento non avevo ancora ricevuto dall'Italia un pacco di materiale vestiti pigiami piuttosto che salviette eccetera eccetera non li avevo ancora ricevuti perché fa tutta una trafila di controlli di sdoganamento non avevo ancora ricevuto dall'Italia il pacco che queste persone che ho citato mi hanno preparato mi hanno inviato in Germania e quindi cosa posso dire anche qui un particolare ringraziamento e ho avuto modo poi di ringraziare sia la clinica universitaria attraverso l'invio di conoscenti che si ricavano in bici da Bergamo a Lipsia per ringraziare tutti i medici e gli infermieri che hanno operato per salvare delle persone italiane io ho inviato una targa dove in maniera semplice non enfatizzando alcune frasi particolari ma semplicemente dicendo che ringraziavo i medici gli infermieri e il personale sanitario per avermi salvato la vita questa tag è stata messa nella direzione generale della crica universitaria di Lipsia ed è stata molto apprezzata per il gesto dello stesso console onorario di Lipsia che io ho incontrato e lui appunto è il console onorario italiano in Germania che si interessava di alla mia situazione di salute ha particolarmente apprezzato questo gesto io ho avuto modo anche di ringraziare il presidente della Repubblica Stan Mayer che è venuto in visita ufficiale il 17 settembre a Milano a Palazzo Reale dove ho incontrato sia il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella sia il presidente della Germania Stan Mayer e ho detto esattamente questo il presidente della Repubblica non potendo stringere la mano non potendo guardarsi se non negli occhi si è molto commosso della mia della mia storia ed è presente anche sul sito del Quirinale e si è commosso e mi ha fatto gli auguri di una pronta guarigione naturalmente questo tipo di di virus come dicevo colpisce tutti gli organi ancora anche adesso nonostante tutto abbia fatto tre batterie di dieci sedute di riabilitazione ancora non muovo in maniera corretta l'alluce non cammino in maniera corretta le gambe mi fanno male ancora le gambe e oltre a questo sono sempre sotto controllo perché ho dovuto in qualche maniera ho dovuto non dico lottare ma quasi per avere un riscontro ho detto semplicemente ma io devo tornare in Germania per farmi fare i controlli post covid poi sono stato messo nel circuito e mi hanno fatto una serie di esami e comunque ho ancora parecchi postumi che vanno dal cuore alla alla tiroide diabete e quindi pressione prende un sacco di pastiglie i polmoni sono stati compromessi circa dagli ultimi esami del 23% non ho ancora fatto un recupero totale e quindi non so se questo tipo di postumi saranno cronici naturalmente naturalmente io mi sto battendo e sto ancora lottando contro questo virus per poter rimettermi non dico al 100% però perché non ritornerò come prima e oltre a questo non è detto che appunto come dicevo questo tipo di postumi siano cronici per tutta la vita tuttavia ho avuto anche delle tra virgolette sorprese perché ho diminuito anche il campo visivo il campo visivo e a dicembre sono stato operato anche gli occhi sto facendo tuttora dei controlli che andranno avanti fino a settembre di quest'anno anche l'udito ne ha risentito quando ero in coma mi hanno detto che ho avuto il blocco renale e sono stato in dialisi e quindi attualmente io oltre a essere sotto controllo sto prendendo le pastiglie apposta per i reni per poter fare in modo che riprendano il funzionamento normale e quindi c'è tutta questa serie di postumi che secondo me sono possono essere anche letali per alcuni aspetti perché devo costituiscono appunto una situazione che devo stare attento a prendere un raffreddore a prendere determinati la febbre perché potrebbe causare le situazioni che potrebbero essere incontrollabili devastanti ecco per quanto riguarda l'aspetto chiaramente sociale è una cosa molto pesante il fatto che tu sei isolato lontano da casa sei solo fai difficoltà con la lingua io sono riuscito attraverso mezzi informatici che mi hanno messo a disposizione essendo un docente di elettronica informatica sono riuscito a programmare un tablet e collegarmi Skype piuttosto che e quindi comunicare con l'Italia e comunicare con amici e parenti nei momenti che che potevo senza senza in qualche maniera disturbare il funzionamento e gli operatori sanitari della clinica naturalmente è una sofferenza indescrivibile che trovo conferma solo quando comunico mi relaziono con altri ex pazienti perché solo con loro riesci veramente a comunicare in modo che tu sia capito e tu riesci a capire le loro sofferenze ancora presenti e le loro difficoltà per questo io volevo costituire un'associazione di ex pazienti covid non sono riuscito a trovare dei partner non sono riuscito a trovare dei collaboratori perché da solo non riesco perché sarebbe importante trovare un modo per far comunicare gli ex pazienti per fare una banca dati di patologie che gli ex pazienti hanno per fare una banca dati di sintomi che gli ex pazienti manifestano e quindi è importantissimo questo tipo di intervento e anche come a livello psicologico che di